Un nuovo giorno inizia già, a scuola si va, Elis ha una clave magica e una porta si aprirà. Il mio migliore amico è qui, Elis e Luis, Elis e Luis, nel paese delle meraviglie, sì. Elis e Luis, Elis e Luis, è il mondo della fantasi, Elis e Luis. Ilis e Luis, è il mondo della fantasi, 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 il mondo della fantasi, où è il mondo della fantasi, l'anni, punishing il mondo della fantasi, Grazie a tutti.